Ho letto. Si metta pure comoda. Che cosa scoprirò questa volta? Hanno lanciato delle granate e ci sono stati quattro morti. Tra cui malo tu. Di questo guaio ne sentirai parlare. Sappiamo dell'operazione che state conducendo in Ucraina contro uno dei nostri agenti. Pain in the ass. Secondo le nostre fonti, l'agente assassinato sarebbe una tappa divenuta scomoda per tutti. Trump non sopporta la direttrice della CIA. Può aver cercato di destabilizzarla. Ma... ma Lutru è morto, no? Sì, durante uno scontro in Ucraina. È una palla. È della verità? Sì. La verità che servirete al mondo. I russi a quest'ora staranno ridando. Non sapevo ci fosse una crisi. Perché lo avrebbero fatto? I nemici dei miei nemici sono miei amici? Sì. Sì. Sì.